Namaste sono Aztabrave bentornati ad un altro episodio di Pam 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 Hammer Time no di XCOM Files è pronto ad atterrare nei prezzi di un avamposto investigazione avamposto del culto iniziamo pure la missione siamo su XCOM Files siamo contro l'exalt e siamo di notte nuova musica in sottofondo che è stato appunto aggiunto ultimamente vediamo un po' di preparare la nostra squadra composta da un bel po' di gente Selly, Ibiki, Delta 3, Kimiwo e Nikius vediamo pure di prepararli tutti vediamo che cosa riusciamo a combinare contro gli exalt sarà una missione molto difficile oh bene 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 li ho sistemati così tutti quanti hanno una Magnum nel taschino con i tamburi da questa parte tutti quanti hanno gli stimolanti e il kit chirurgico oppure hanno come potete vedere il kit di punto soccorso perché non ne ho tantissimi e poi ho messo il fucile da cacciatore a Selly tra l'altro ne ho messo anche la granata fumogena ci servirà probabilmente poi a Ibiki ho messo il fucile da caccia Black Ops a Delta 3 gli ho dato l'M16 a Kimiwo gli ho dato l'SMG Black Ops e a Nikius gli ho dato la pistola segnalatrice quindi quattro armi completamente diverse una dall'altra ma il backup è lo stesso abbiamo comunque una seconda arma in giro quindi vediamo un po' cosa riusciamo a fare magari darei anche magari darei anche gli shuriken che gli diamo a chi ha più tiro in questo caso è sempre Ibiki vediamo pure gli shuriken ho attivato anche gli elettrobagliori e anche la granata qua bisogna semplicemente cliccare col destro vedete che si attiva la granata così li accendiamo prima di partire e vediamo che cosa riusciamo a combinare è buio pesto ok siamo la mappa è molto grande però siamo attaccati a dove doveva andare cioè qua intanto c'è qualcosa per terra qua? o è la cassetta? no è la cassetta delle lettere allora lanciamo ok questa può saltare in aria ce la facciamo a tirare la granata? no per un'unità allora tu la puoi innescare metterla a terra stiamo rischiando la vita vieni qua tu delta 3 mi lanci questo qua corri qua prendi la granata e la lanci qua ottimo vieni qua tu girati per favore tu mi lanci qua arca uno attaccato l'abbiamo sparagli con questa aia hai finito di sparare anche qua ce n'è uno cazzarola abbiamo bisogno di uccidere quello allora tu vieni qua colpito ucciso ottimo e poi abbiamo solo i bichi che deve fare qualcosa tu lanci qua in fondo e i bichi deve star fermo vediamo se salta per aria quella roba lì o no in caso buttiamo anche l'incendiario salterà prima un po' in aria contagente c'è aia mi attaccano a tutte le parti aiuto ok abbiamo un'entrata mi hanno distrutto un pezzo dell'entrata bene siamo ancora vivi ottimo sapersi allora delta 3 no Sally vieni qua tira su un'altra granata metti giù questa che così abbiamo un po' di protezione innesca questa e lanciala qua ottimo preso 2 preso 3 preso 4 volte però una volta gli ho fatto 0 danni continuiamo con questo smg ancora niente non l'abbiamo ucciso abbiamo beccato un'altra volta no proviamo con Nikius eh ottimo è bravo i becchi vieni qua dietro e tu resta lì fermo magari di qua ok questa era la coltre di nube difensiva non è ancora saltato in aria tutto il resto abbiamo usato due granate ma ancora niente aia aia questo mi ha preso anche questo mi ha preso ok abbiamo un colpo con noi ed è stato ferito delta 3 delta 3 tu che sei qua prendi questa me la lanci qua ok non vedi niente tu dove è il nostro dinamitardo vediamo uno qua e vediamo uno ferito che è Kimi Wo perché si è girato tu stai giù a questo punto spara tu a loro sto provando a sparare i barili direttamente curiamo no non devi curare lui devi curare lui no non devi curare lui devi curare lui eccolo qua il fucile ti costa 22 spararlo i bicchi e che cavolo no impossibile colpire quell'albero cavolo quella 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 barile non far saltare quel barile mi sa che facciamo un po' di decisioni forza e coraggio aiuto ok siamo ancora vivi Nikius per favore mamma mia Nikius quanta cacchio di energia ha quel barile possiamo distruggerlo niente non riusciamo a colpire nulla questo l'ho disintegrato di colpi ma ancora niente siamo ancora bloccati qua se Nikius riesce a colpire quel cavolo di barile abbiamo possibilità fortuna che c'è la cosa qua che ci difenda la la rete che ci sta difendendo aia abbiamo un ferito chi è il ferito delta 3 ti prego Nikius e vai ok preso 0 danni 0 danni il ferito è lui quindi tu tiro fuori questo e me lo curi perfetto metti via prendi su questo anche tu però sei ah perché siamo nel fumo questo sta per saltare in aria preso preso bravo kim quattro colpi ottimo non è ancora distrutto ci sei ancora tu e tu fai reazione vediamo se basta distruggerlo aiuto ai cecchini aia ok siamo ancora vivi ok allora ne abbiamo uno qua e uno qua secondo me questi qua esplodono tra poco quindi vediamo un po' se ce la facciamo partiamo con se io mi catapulto con i bichi facciamo un bel colpo concentrato su questo e proviamo a sparare qui in fondo tu hai finito anche i colpi prima o poi riusciremo a farlo saltare in aria tu hai quest'arma qua che non mi piace quindi metti su la magnum giù in ginocchio e vediamo chi colpira questi due sono insieme ok è già meglio au ok ho colpito l'altro preso non ferito ferito ok abbiamo fatto tutti no mancheresti tu ok vediamo se va bene così c'è Nicchius no c'è i bichi che è un po' in mezzo al nulla aia sono furbi e si sono nascosti anche nel fumo provato a colpire l'incontro ma ancora niente uh esplosioni tutto qua no secondo me c'è ancora qualcosa chi è ferito è ferita Sally Sally metti giù il medicit fai un passetto in avanti tu vieni qua e raccogli il medicit così puoi curarla e poi lo metti giù adesso non pesa troppo eh uh poteva essere vabbè uno ha incendiato gli altri tutti li belli 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 i bichi vieni qua spari dentro vabbè ho provato a sparare dentro a vedere cosa succedeva ottimo mamma mia in mezzo a tutti è passato ok l'unico sei tu che ancora ha qualcosa da fare e colpisce lui ottimo poi colpisce lui devi ricaricare adesso l'esplosione è tutto lì abbiamo fatto tutto questo casino c'è solo questa esplosione no secondo me esplode ancora qualcosa sì ci sono dei missili dentro quelli sì che sono esplosivi adesso vediamo di far saltare un po' ok allora i bicchi fai un po' fai un po' di piazza pulita vieni qua fuori un attimo riesci a sparare i missili no no dove è il nostro dinamitardo spari a questo un po' troppo lontano sì ok Sally ha fatto una bella uccisione quanta gente ha colpito credo di averne sentito tre di rumore ottimo bravo Sally altra gente allora voi tu che hai già dato quindi manca solo delta 3 può fare qualcosa ti metti non hai niente altro da fare e poi c'è chi mi vuole anche che non sta bene però intanto usa questo prossimo turno ti fai curare colpisce qualcosa forse no vabbè teniamolo qua cominceranno a impanicarsi un po' gli ho distrutto gli ho disintegrato tutto quanto ok siamo ancora vivi abbiamo 1 e 2 feriti quindi i bicchi no Sally i bicchi tornano un attimo indietro va beh qua torno qua indietro mi vuoi non hai cure tu le hai già usate tu hai ancora cure no l'hai buttata per terra vai tu a curare lui no non è neanche lui che sta male tu fai la guardia di qua tu fai la guardia di qua tu a questo punto fai la guardia qua adesso abbiamo bisogno di luce di muovro ok allora chi è che è un medikit funzionante tu puoi venire qua e curare Kim Inwo curalo perché non c'è un cacchio di energia Kim viene fuori dal fumo questo c'è ancora arg questo va colpito colpiscilo però una volta l'ha colpita c'è ancora uno in fondo a sto punto allora tu metti giù questo corri qua mi puoi colpire lui perfetto tu che cosa vedi vedi lui però se sta lontano tanto meglio quindi venite qua tu vieni qua e mi lanci questa ok c'è lui che ha il fucile Sally vieni qua metti giù questo giù e vedi colpire lui bingo ok prossimo turno adesso dovrebbero impazzire un po' spero non è una scandescenza che ha un po' di colpi a quello che pare ok bene allora adesso come continuiamo tu intanto metti su questo poi Sally vieni qua ok ne vedi tre uno due e tre tu puoi venire qua tu puoi venire qua tu puoi venire star fermi qua potresti venire qua in fondo tu metti giù il medikit magari riesci a sparare questa in una zona decente tipo qua ok completamente dall'altra parte però uno l'hai preso quindi bravo Nikius lo stesso Nikius ha una mira incredibile oggi andiamo un po' fred al panico bene ahia questa è una scandescenza spara i tuoi noi miei ok un altro fred al panico ok allora 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 qua ce ne sono uno due tre mamma mia vieni tu qua che distanza devi essere sta distanza qua quindi vuol dire che devi venire tipo qua come non ci viene di fuoco ragazzi non scherziamo bene vabbè non ho ucciso quello ma ho ucciso un altro che era ancora più difficile tu puoi sparare in schiena questo colpito ma è colpito però tu vieni qua no perché saresti di nuovo in mezzo al fumo quindi resti qua e i bichi no Sally vedi di colpire questo e questo ottimo colpito e colpito bene anche è ucciso ottimo quanta gente è rimasta ancora bichi stai fermo di qua perché ce n'è uno qua in fondo che mi aveva sparato se non mi ricordo male ottimo ce l'abbiamo fatta nemici uccisi 17 nemici arresi 9 è stata molto complicata precisione sparo per tutti Kimiwa ha fatto un più 6 niente male qualche riflesso in più qualche lancio in più per Nikius che effettivamente aveva il flare che gli serve proprio a potenziare quello forza per tutti quanti vigore unità di tempo e salute vediamo un po' il bottino allora il bottino ci viene dato il coltello la Glock la Colt la Desert Eagle il Mach 10 il Colt Commando il Calico tutta la roba nuova l'M16 che già conosciamo ed è stata un'ottima arma l'M14 invece anche fucile a cacciatore adesso direi che possiamo cominciare a venderli un esplosivo potente uno Psiclone che già abbiamo ricercato e che ci fa fare un sacco di soldi un infiltrato e uno sgherro allora l'infiltrato l'abbiamo già sistemato lo sgherro no ben nove persone quindi facciamo vendi ok adesso ovviamente il limite della prigione non c'è quindi trasferiamo tutto al ah no abbiamo riempito la nostra cosa quindi vendiamo via un po' di gente un po' di exalt un infiltrato e siamo a posto così molto bene elettrobagliori granata fumogena e stimolante non male per dume quindi molto bene vediamo di fare un attimo il resoconto della situazione ci mancano gli stimolanti ci mancano le granate che però non posso tirare fuori e ci mancavano anche un po' di kit quindi facciamo un po' di spesa anche di quello e kit di pronto soccorso direi che per così può bastare abbiamo mezzo milione vediamo di andare pure avanti abbiamo altra roba? no quindi andiamo pure avanti così c'è già arrivata la roba a dume anche la torcia quindi arriverà altra roba qua abbiamo la cucitrice UAC uno strumento prodotto dalla corporazione UAC garantito per funzionare in qualsiasi ambiente compreso lo spazio esterno può essere usato in combattimento come una pistola ha un raggio molto limitato ma funziona molto bene in combattimento ravvicinato a patto che tu abbia la faccia tosta di usarlo 0.1 per coraggio bello questo funziona col coraggio quindi molto interessante un danno tagliente tra l'altro che è un danno che non si fa spesso però magari troviamo qualcosa che è molto suscettibile a questo possiamo utilizzarlo per noi abbiamo una marea di roba da ricercare come sempre vediamo di continuare con le armi per la precisione il KV che ha quindi abbiamo anche le varie vabbè andiamo col KV piccolo spoiler del futuro qua ci sono gli stimolanti che sono arrivati perfetto un'altra attività del culto questa volta è probabilmente alba rossa sì quindi questa la intercettiamo invece con l'elicottero andiamo con il nostro da cioppa che è già equipaggiato con Randy Savage capo agente eccetera che avevamo già sistemato avevo già portato tutto se non mi ricordo male quindi dovremmo essere a posto diamo un occhiato un attimo all'equipaggiamento come SMG ne avevamo partiti un po' pochi fatemi controllare pistola spia black ops no è da sistemare un po' il tutto quindi facciamo un attimo il punto della situazione pistola black ops 5 con 15 caricatori le magnum sono 6 va benissimo la mauser mi sembrava buona la mauser alla fine picc'altro è molto veloce quindi se usata bene portiamocene una dietro magari troviamo qualcuno che sa usarla per bene mettiamo anche una cucitrice che non ci sa mai makarov lo sten l'hmp5 l'hmp5 beh l'mp5 non serve più visto che abbiamo l'smg black ops ne mettiamo le 5 mettiamo anche 20 di questi altra roba interessante il fucile a cacciatore non ci è servito più di tanto il fucile da caccia black ops invece si quindi via questo e tiriamo su questo tiriamo su anche un bel po' di questi il canone leggero ce lo portiamo dietro la pistola segnalatrice portiamo dietro un po' di razzi in più che sono sempre utili contro questi il bruciatore agricolo portiamo lo stesso andiamo andiamo con il da cioppa se siamo di notte tanto meglio a quanto pare andiamo di giorno va bene è finito anche il mese valutazione buona abbiamo un milione e cento il consiglio delle nazioni esprime la sua roba positiva quindi bene 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 con un milione adesso possiamo costruire una terza base eventualmente vedrei se costruiamo una terza base facciamo una base abbiamo bisogno di avere più a parte che abbiamo finito una ricerca no abbiamo questa da sistemare l'officina e qua come ricerca siamo a zero dovrei fare la base questa come base di ricerca questa come base principale e magari fare una terza base con con tutto quello che riguarda l'officina quindi la produzione vediamo se è il caso di farla ma intanto andiamo avanti così e vediamo cosa riusciamo a fare con questa missione vediamo di organizzarci con Randy Savage che dovrebbe essere già caricato ciao sul proiettore di fumo adesso vediamo tutti gli altri di cui poggiarli ok allora partiamo con Randy Savage che viene vediamo anche la mappa com'è ce n'è uno lì e uno qua e l'edificio sembra essere qua in fondo perché non vedo altri edifici in giro quindi Randy Savage vieni qua ti prendi possibili colpi vedi di usare anche la nuvola di fumo per terra perfetto così gli facciamo sprecare i colpi tu vieni qua e spari a lui ancora uno Ryan vieni qua uh ok c'è un altro qua alla faccia mi ha ferito Ryan stesso quindi tu vieni qua basta sparare ce n'è uno anche attaccato qua dietro intanto vediamo la Mauser la Mauser costa molto poco mi ha fatto danno c'è è anche un buon danno eh questa Mauser è un'ottima cosa mi sa è un'ottima cosa è un'ottima cosa è un'ottima cosa oh bene bene allora vediamo di continuare intanto ha tanti più colpi anche quello è importante quindi potrebbe essere molto buono tu che hai l'SVD ti giri di qua 30% proviamo a sparargli la granata molto bene e tu curi tu che hai il cannone però hai questo curi lui perfetto metti via sono curioso di vedere come spara il cannone oh c'è qualcuno anche di qua questo cosa ha in mano un rack ok abbiamo fatto la nostra porca figura direi ottimo non abbiamo neanche ucciso tra l'altro le granate quelle fanno veramente poco danno attenzione colpi abbiamo ferito non abbiamo feriti 1 e 2 questo c'è questo c'ha la k e tu cosa hai solo coltello ne vedo parecchi ecco dove sono allora allora tu vieni qua posso fare il giro qua dietro però possiamo attaccare da qua in qualche maniera proviamo a attaccare questo dai ah eh neanche male tiro con mira bello comunque fa dei tiri non esplosivi tu vieni qua adesso non ho visto anche questo questo c'ha vabbè ci teniamo qua tu spara non c'è lino di fuoco da nessuna parte vieni qua fuori ah mi sa che non lo becco no stanno sbagliando tutti però non credo di averlo beccato no comunque sappiamo da che parte arrivano dalla maggior parte gioco di parole aia aia il nostro assalto qua con il fucile finito di sparare aia quanti colpi ha mamma mia tu sei ferito torno indietro tutti i lavori di nuovo il medikit perfetto poi tu vieni qua ottimo è bravo Randy Savage ecco già meglio ecco già meglio non c'è lino di fuoco questo è un bel fucile da cecchino il Dragunov per quello che abbiamo adesso non è niente male stai cercando di attaccare con un coltello un mech ryan ha perso i sensi attenzione brutta perso i sensi abbiamo avuto un'esplosione maledizione siamo tutti feriti ci siamo messi molto male mi sa che dovremmo andarcene via addirittura scappiamo non funzionato il stimolante ah perché non ho più via via e con quella granata lì ci hanno un po' fregato aia quattro colpi di seguito mamma mia scappiamo scappiamo speriamo che rimanga ancora in piedi uff perso i sensi tu metti via questo tu ce la fai correre tre abbiamo due in mano uno dalla parte l'una dall'altra alessandro sforza che sale su quindi abbiamo uno due tre ok andiamocene via uff abbiamo ucciso sei abbiamo recuperato tutta sta roba qua ma siamo tutti vivi ancora purtroppo poca esperienza per i nostri mi aspettavo un po' di coraggio almeno però almeno il caso non è stato risolto purtroppo abbiamo perso la mouser ecco cosa è il kit d'emergenza però eh cacchio mutilazione del bestiamo e questa è una missione che andrò anche a saltare mi sa perché è veramente facile ormai vediamo giusto la macchinuta come è presa dovrebbe avere già l'equipaggio giusto sì siete già a posto andate pure voi e andrò a saltare pure la missione magari facciamola di giorno però macchinutte vai qua vediamo pure a fine missione ok siamo pronti ok siamo pronti ho equipaggiato così rendi savage ovviamente non c'è niente su alto x gli ho messo la mouser perché voglio provarla è il nostro capo soldato come potete vedere con le sue statistiche vedremo di utilizzarlo al meglio tra l'altro bmftr gli manca tutto praticamente in realtà tutti loro non hanno ancora l'unico che ha un pochino più di bravery è Alessandro Sforza gli ho messo l'smg come backup blocco dorato voglio dargli il dragunov vediamo se è capace di utilizzarlo a davide k gli ho dato il fucile black ops a ryan gli abbiamo dato la pistola segnalatrice e la magnum e a Alessandro Sforza gli ho dato il cannone leggero vediamo un po' come se la cava con questo siamo pronti siamo caldi ci manca magari mettiamo anche una granata di qua ovviamente tutti hanno anche delle granate in mano partiamo sostenitore andiamo avanti con i sostenitori dagon un bel po' che non l'affronto sembra sparita nel nulla strana forma di vita questa volta qua sotto vediamo anche questa se è una roba nuova bene se no andiamo pure avanti a tagliare un paio di queste missioni ormai che cominciano a diventare un po' ripetitive andiamo pure a fare un nuovo kit di squadra partendo da Yuri Yuri Alex non portiamo portiamoci dietro Sakura tu no tu no tu no tu no e poi che abbiamo Franco Gabriele e basta quindi andiamo pure così vediamo pure di armarci come si deve e andiamo pure con l'hammer time qua ci metto un po' ad arrivare abbiamo anche il fucile Mosin un altro fucile che costa un po' di meno ed è no costa di più però è più preciso nel corpo mirato anche se sviluppato dalla Russia imperiale ha continuato ad essere prodotto per lungo tempo dopo la rivoluzione ormai un po' antiquato ma è ancora apprezzato per la sua eccezionale precisione usa le munizioni bolt action munizioni bolt action che abbiamo già ha un modificatore di precisione mezzo di accuratezza di tiro wow quindi in realtà è un fucilazzo questo si perché parte da 105 però ha un bonus quindi chi ha 100 di accuratezza a tiro vuol dire che ha un tiro mirato di 155% più 0,01 accuratezza punto di domanda che non so credo sia la stessa cosa del tiro tra l'altro se non mi ricordo male questa è una roba tipo alla seconda quindi in realtà è un gran bel fucile da cicchino questo quindi vedremo di utilizzarlo e posso anche acquistarlo questo quindi mettiamolo subito come possibile acquisto qua arriveremo di giorno e a me va bene che arriviamo di giorno e vediamo un po' cosa ci capita in questa missione ok così vediamo un po' contro chi siamo ok siamo contro un lupo mannaro ottimo e ce l'abbiamo fatta nemici catturati e civile salvato era un lupo mannaro quindi molto semplice Alex Zero non ha fatto neanche esperienza tra l'altro neanche Sakura perché effettivamente non hanno avuto niente da fare e abbiamo un licantropo tra i nostri quindi vendiamo niente e il limite per le gabbie è perché non abbiamo gabbie quindi fondamentalmente lo mandiamo al CERN il nostro licantropone nuovo e vediamo di trasferirlo pure al CERN e andiamo pure avanti abbiamo anche il fucile Mosin quindi direi che possiamo anche acquistarne qualcuno continuiamo con l'algoritmo senziente fucile Mosin per farlo come si fa? S C V T non mi ricordo come si fa il c'è un tasto per fare la ricerca veloce S ah Q quindi Mosin oh che bello ne abbiamo tre vediamo di farne sette e funzionano con le cose bolt action giusto? Mosin 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 andiamo a cercarcelo di nuovo Mosin con il fucile bolt action riprendiamo un po' di queste e vediamo pure di andare avanti è arrivato il nostro licantropino abbiamo un'infestazione zombie wow non è dietro l'altra sono e direi che anche per oggi abbiamo finito è un episodio un po' più concentrato questo dire il vero però è stato molto lungo le due basi che abbiamo avuto quindi direi che può bastare così per adesso ci vediamo quindi al prossimo episodio vedremo di fare questa infestazione zombie a quanto pare vicino a New Orleans io sono East Brave chissà chi avrà fatto video qui dentro Namaste e